Il saluto del forum ai direttori di gara e adesso è la più arbitrale, il primo arbitro Vincenzo Carcione di Roma, grazie e benvenuto. Il secondo arbitro Andrea Pueker di Padova, grazie e benvenuto. Il terzo arbitro è Umberto Sanussi di Casale sul stile, al videocheck c'è Giulia Natalini di Castiglione della Pescaia e il segnapunti è Lorenzo Marini di Ascoli Viceno, buon lavoro a tutti per voi, l'applaudio del forum. Il starting six delle due squadre, iniziamo dagli ospiti del vero Wally Monza, in campo con il numero otto Stephen Marra. Il numero undici Lorenzo Gianluca Galassi, scusate. Il numero quindici Vlad Davi Schiva, il numero diciassette Jan Zimmermann, il numero diciotto Gabriele Di Martino, il numero trentuno Artur Swark, il libero con il numero sette Filippo Federici. il primo allenatore Massimo Echeli, il vice allenatore Giuseppe Ambrosio. Guardi la voce ragazzi, il petro dei nostri, in campo, la cucina numero decimita nuova, con il numero uno Gabi, con il numero decimita Nemi, con il numero quindici Capitano Luciano, con il numero diciassette Simone, con il numero quindici Mattia, con il numero quindici tre Marlonia, il libero con il numero sette Fabio, l'allenatore Gian Lorenzo Chico, il vice allenatore Romano, si gioca. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.